A tutte le unità Hunter, recuperate i vostri uomini, ce ne andiamo. Il C.T.1 è rimasto intrappolato, attivate il fiume della zona rossa, abbiamo perso i contatti. Raggiungete i veicoli, ce ne andiamo. Siamo la forza militare più potente della storia dell'umanità. Ogni guerra è la nostra guerra, perché quello che succede qui ha conseguenze laggiù, è semplicemente inevitabile. Imparare a utilizzare gli strumenti della guerra moderna è ciò che separa la prosperità del vostro popolo dal suo sterminio. Non possiamo darvi la libertà, però possiamo insegnarvi come conquistarla. E, amici miei, questo vale più di un'intera base d'acciaio. Il bastone più lungo ha la sua importanza, ma conta molto di più l'abilità di chi lo impugna. Questo è il tempo degli eroi. Il tempo delle leggende. La storia è scritta dai vincitori. Mettiamoci al lavoro. R.P.G. R.P.G. Uomo a terra! R.P.G. R.P.G. Alzati soldato alle! Ranger, fate strada! R.P.G. 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 Il piani è occupato dai nemici. Passo! Under 2-1. Trae World. Ricevuto. Devil 1-1. 2F-15 in arrivo. Aspettate. Under 2-1. Qui Devil 1-1. 2F-15 in volo. Tempo d'arrivo da 1 a 5 minuti. Direzione 3 Sierra. Nord-Ovest. Con due J-TAM e due ARMA. Passo. Contro in atto. Ora 10 per stagione. Vieni per la salita! In attesa. Devil 1-1. Il bersaglio è un edificio residenziale bianco a 12 piani. Quadrante 252. Under 2-1. Lady ruddera al suolo quell'edificio. Ricevuto? Ricevuto. Under 2-1. Ci sono. Bersaglio acquisito. Under 2. Forza e controllato. L'attivamento via! Sono avuto! No! Porta, andiamo! Riporta il culo a bordo! Ci muoviamo! Porta! A bordo! Ci muoviamo! Ci siamo! 10 secondi! Qual è l'edificio, signora? Quello alto a ore 1. Ehi, senti! Qual è l'edificio? Qual è l'edificio? Quello alto... Ehi, Dave, qual è? Quello a sinistra o quello a destra? Quello a sinistra... Ehi, non è un pericolo ravvicinato per la task force! Da quanto in qua, Shepard? Frega qualcosa del pericolo ravvicinato! Sì! Sì, così si può! Senti questo! Battaglione in movimento! Ok, ci muoviamo! Guardate, guardate! Guardate, guardate! L'edificio sta crollando! Va! Hunter 2 in fuga! Ricevuto, Hunter 2! Hunter 2, attenzione ai civili! Non siamo autorizzati all'ingaggio a meno che non ci sparino per prima! Cercate i nemici sul tetto! Rimanete calmi! Vedi qualcosa? Niente! Questo posto è un mortale! Overlord! Hunter 2-1! Stiamo oltrepassando il tunnel arve all'incrocio con Elizabeth 3! Ricevuto, Hunter 2-1! Procedete con cautela! State allerta, gente! Qui siamo nel far west! Ricevuto! Ispezionate le strade! Ispezione! Tre contatti! Balcone a ore 12! Probabilmente miliziani! Sono armati! Negativo! Ci osservano! Scommetto che ci stavano cercando! Non per questo possiamo spararlo! Li vedi? Li vedi? Non vedo nulla! Hunter! Qui è il ZM Poli! Prepararsi all'ingaggio! Paranota più direttamente! È pieno di contatti! Davanti e dietro! Ecco! Mi fa di saltare! Non sono tutti! Ritirata! Ritirata! Oggi ci vieni qua! Corri! Hold on! Over the shot! Non ci sono! Corri! Ci stanno facendo neri! Ci sono peccati! Non ci sono! 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 Ultimo piano! Dritto davanti a Lour! Non ci sono! Assurdi! Andiamo! Paoli! Ho fatto un po' Non ci sono! Ricevuto! Versaglio agganciato. Tutto a posto, ragazzi. Si stanno muovendo di sopra. Allontanatevi da le finestre e prendete il controllo dell'ultimo pilano. Muoverti. Sguogli una cagante di te. Ce l'hai visto? Fermate! Hunter 2-1, Hunter 2-3. Vedo la scuola. Passo. 2-1, non possiamo combattere. Fuoco nemico pesante proveniente dalla scuola. Potete aiutarci? Passo! Resistete, 2-3. Stiamo arrivando. Passo a chiudo. Guarda la scuola. Guittami, andiamo. Granata! Andrini! Secondo piano, finestra, sinistra! Preciso di spazzanti, samentate una classe a destra! Hunter 2-3, Hunter 2-1. Siamo nella scuola. Resistenza pesante. Rettenuto, Hunter 2-1. Andrini! 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 Sto passando dall'aula di storia. Hunter 2-1, qui Hunter 2-3. Grazie per l'aiuto, ci ne andiamo. Passo. E c'è un'altra. Un'altra. Riccevuto. Granata. Atterra. Voling. Credo di averne visto uno correre in quell'aula. Vila libera. Prendete il giardino, giardino! Hunter 2-1, ecco la Overlord. Hunter 2-1, actual, qui Overlord. Fornite informazioni. La scuola è sotto controllo. I nemici si stanno ritirando dall'aria. Resta solo da passare lo straccio. Ha ricevuto Hunter 2-1, actual. Con cautela verso il punto di raccolta. Forse ci sono altri nemici nell'aria. Passo. Ricevuto, Overlord. Grazie per il consiglio. Chiudo. Squadra! Fate attenzione ai nemici rimasti. Andiamo al punto di raccolta. Grazie per il consiglio. Bello! Bello! Abbiamo contatto! Hanno preso! Sova un'uno! Ho! Una lacrima! Ho! Come? 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 Versaggio le vostre urbano! Via libera! Usate il mio elicottero! Signori, ottimo lavoro, la conquista della città! Soldato Allen, a questo momento prenderai ordine da me. Te tornerò sull'elicottero, andiamo! Il battaglione è in movimento! Il battaglione è in movimento! Il battaglione è in movimento sotto copertura. Quindi Makarov è il premio? Makarov non è un premio, è un pazzo assassino, una puttana pronta a darsi a chi offre di più. Ricorda la tua nuova identità, ti salverà la vita. Sei nella 141, il gruppo dei migliori guerrieri del pianeta. È un onore, signore. Quando conoscerò la squadra? Sono in missione, stanno recuperando un modulo ACS caduto oltre le linee nemiche. Sono a mollo? Direi surgelati, in questo momento. La pausa è finita, Roche. Andiamo! Stai qua e tienimi d'occhio. Aspetta che parta. Ok, il ghiaccio tiene. Seguimi. Aspetta che parta. Buona fortuna, amico. Ci vediamo di là. Tieni duro, da guardare! Tieni duro, da guardare! Tieni duro, da guardare! Dovresti riuscire a vedermi. Io sono il punto blu. Qualsiasi contatto non riconosciuto apparirà come un punto bianco. Roach, questi idioti non sanno che siamo qua. Facciamo un lavoro pulito e con calma. Pensa a quello sulla sinistra. Al tre, uno, due, tre. Bel lavoro! Cosa? 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 Stesso metodo, al tre, uno, due, tre, bel lavoro. Stesso metodo, al tre, uno, due, tre, bel lavoro. La tempesta sta montando. Dividiamoci. Io terrò d'occhio la situazione con il mirino termico da questo ciglio. Tieni d'occhio il tuo rilevatore di battito cardiaco. Comandante Petro, portate a pesce di dispecchersky. Comandante Petro, pesce di dispecchersky. Bene. Nasconditi. Hai allertato una delle guardie. È mio. Sì. Sì. Buongiorno a tutti i nostri spettatori e per la testazione di 14 ore. Il camion in arrivo, non farti vedere. Tranquillo, hanno solo trovato un cadavere. Non sanno dove sei. Occhio, il camion si è fermato. Quattro tango sono appena scesi e si guardano intorno. La stazione di rifornimento è verso l'angolo nord-est della pista. La stazione di rifornimento è verso l'area nord-est della pista. Aspetta, vedo un po' di movimento sulla pista. Sembrano più di una ventina e vengono verso di te. La stazione di rifornimento. Sto rilevando altre informazioni sul satellite. Aspetta. Fatto. Sembra che il satellite sia nell'hangar più lontano. Ci vediamo là. Muoversi. Chiudo. Quattro tango. Quattro tango. Quattro tango. Rolz, aspetto dietro gli hangar nell'angolo sud-est della pista. Rolz, aspetto dietro l'angolo sud-est della pista, rilievo una grossa traccia di calore vicino alla torre. Corre forse PMB, evita quella zona. Vediamoci dietro gli hangar all'angolo sud-est della pista. Hai preso la strada panoramica, eh? Andiamo. Andiamoci dietro l'angolo sud-est della pista. Va al piano di sopra e cerca il modulo ACS. Rolz, la mia copertura è stata compromessa. Non farti scoprire e non sparare. Colo maggiore Petrov, uscite con le mani in alto. Avete cinque secondi. Rolz, diamo il via al piano B. Quattro! Quattro! Sta attaccato il muro. Useremo i MIG come copertura e attraverseremo la pista fino a sud-est. Attenzione. Ma si scolga un attimo. Andiamoci al volo. Attenzione, guardami! Oh, che cariera! Oh, seguimi! Andiamo! Vai verso il migo, ti copro Entro, spari Motoslitte, pezzaci tu! Coprimi, provo a uscire! Imi, provo a uscire! Emi, provo a uscire! Coprimi, provo a uscire! Et en 백aire! Voi venia, visce me oisci! Roche, prendi quella motoslitta, andiamocene da qui! Chilo 6-1, via d'uscita principale, compromessa, andiamo all'area di atterraggio secondaria con messi di trasporto nemici, raggiungeteci là, passo! Bravo, segui, chilo 6-1, ricevuto, chiudo! Altri tanto, dietro! Seminary! Vai, vai! Non allentare! Vai, io sei morto! Vai, vai, io sei morto! Alcamo! Alcamo! Bravo, sei! Stiamo per finire il cappulante! Qual è il vostro stato? Chilo 6-1, siamo in mezzo al fuoco nemico, ma siamo quasi arrivati! Aspettate! Dai, Gantt! Vai! Ecco l'olicottero, andiamo! Bravo, sei! Vi vediamo! Volete via salire a mordo? Stiamo quasi a secco! Ok, hanno la CS! Fuori di qui! Grazie!